a posto. Signori, buongiorno, buon inizio settimana a tutti, seduto ordinaria del 12 aprile 2021, ore 11.40, invito la signora Mecce a chiamare l'appello. Ora 11.4. 11.4, scusami. Ok, Aresu. Assente. Cannella. Presente. Presente. Limuli. Presente. Maraventano. Assente. Nona. Assente. Spernice. Assente. Sino. Assente. Susinno. Assente. Tumbarello. Assente. Valenti. Assente. Siete solo in due. Costata. Assente. Il presente di cui la salute la rinvia alle 12.05. A dopo. Arrivederci.